Uno spazio per tutti da utilizzare come centro di aggregazione sociale. Questa è la richiesta del comitato costituito per l'ex cotonificio del Ghero. La proposta di una struttura polifunzionale per la vita comunitaria rappresenterebbe un'assoluta novità per la città catalana e incontra la piena approvazione del consigliere regionale Mario Bruno. L'amministrazione dovrà limitarsi a predisporre entro il 2 settembre un progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale, accompagnato da una lettera di intenti. Naturalmente occorrerà reperire ulteriori risorse, chiarisce Bruno, pronto a rilanciare un incontro tra i rappresentanti di Comune e Regione.